Ben ritrovati al NOTES di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, agli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che a Zarobranco, presso la tensostruttura Proloco di Via Taliercio, vicino al campo sportivo Parlotti, fino al 29 gennaio c'è la 29esima edizione della mostra del radicchio rosso di Treviso IGP. Ogni sera si balla con gli spettacoli musicali delle migliori cover e orchestre e l'ingresso è gratuito. E poi ancora Luna Park e divertimento per tutti, adiacente la struttura. Non mancherà l'esposizione e la mostra del radicchio a chilometro zero con possibilità di acquisto. E naturalmente sarà attivo bar, stand gastronomico e pizzeria con tante specialità a base del pregiato Fiore d'Inverno, ma non solo. Per saperne di più www.fioridinverno.tv Nel 1986 venne avvistata la cometa di Halley. È la più famosa e brillante delle comete periodiche, le quali passano per le regioni interne del Sistema Solare ad intervalli di decine di anni. È così chiamata in onore di Edmond Halley, che per primo ne predisse il ritorno. Nota fin dall'antichità, la prima testimonianza documentata della cometa di Halley risale al 66 d.C., addirittura in un testo sacro ebraico. L'ultimo passaggio della cometa di Halley è stato appunto nel 1986, il prossimo sarà nel 2061. Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi. John Fitzgerald Kennedy La curiosità del territorio di oggi ci porta a conoscere il museo più alto d'Europa. Si trova sulla Marmolada ed è il museo Marmolada Grande Guerra 3000, inaugurato nel 1990 all'interno della stazione di arrivo della Funivia a Serauta e si trova ad un'altezza, come dice il nome, di 3000 metri. La visita mette in luce la quotidianità dei soldati italiani e austro-ungarici nel 1916, senza distinzione di nazionalità, semplicemente per sottolineare ciò che hanno vissuto. L'allestimento, oltre a oggetti rinvenuti in loco, si avvale di moderne tecnologie che permettono una visita interattiva e multimediale per capire come si viveva in balia del freddo all'epoca. Un esempio è un simulatore del freddo composto da due pertugi nel muro in cui è possibile infilare le mani. Dal Notes di Antenna 3 è tutto, arrivederci.